A Serene Village stasera c'è Elvia Garofano, nata a Crotone, dai genitori non proprio crotonesi ma di origine crotonesi. Già partecipante a Yocanto, come andò allora? È stata una bellissima esperienza, ho conosciuto davvero persone fantastiche, grazie a questo trampolino di lancio sto facendo serate, mi sto facendo conoscere, sto facendo ciò che mi piace. Come mai stasera qui a Serene con la Confartigianato, talenti crotonesi in mostra e un talento è Elvia? Diciamo che ci sono parecchi miei amici, i miei ballerini, una mia amica che canta e quindi siamo in famiglia e mi ha fatto molto piacere partecipare anche perché è una bella serata, è un bel posto. Conoscevi questo posto? Sì, c'ero stata una volta da piccola con la mia cugina. Quindi per te era un posto già conosciuto, al contrario di me che la prima volta che lo vede mi ha molto entusiasmato, molto sorprendente. Non lo ricordavo, però adoro i villaggi, mi piacciono. Immaginavi che si potesse fare turismo con tante persone a metà settembre in Calabria, cioè quando eri piccola tu magari non succedeva. No, in effetti è difficile a settembre trovare magari turismo qui in Calabria perché a Crotone, diciamo, perché a settembre diciamo che un po' si spegne la stagione estiva e quindi è difficile trovare turismo, non me l'aspettavo. Quanti anni hai? Ne devo fare 15. Mamma, piccolissima, pensavo qualcosa in più. Elvia, tu hai all'attivo anche un cd, che tra l'altro io posseggo. Qualche tua canzone l'ho mandata anche in un mio programma radiofonico. No, che sì. Come nasce, come è nato questo prodotto e come è andato? Allora, è stata un'esperienza che, direi vero, ricordo benissimo come se fosse stato un mese fa e penso che, cioè, la vorrei rifare perché è stato prodotto dalla Sony, ho conosciuto brave persone, musicisti ad altissimo livello e non vi so dire, per me è stata davvero un'esperienza da rifare. Elvia è un po' una datangelo crotonese, cioè, quasi prima di lei, perché lei è arrivata a Sanremo forse più grande di te, insomma. Sì, a 16 anni. Quindi tu hai già fatto un cd a meno di 15, insomma, come... Siamo bene. Cosa prevedi? Quali sono i progetti futuri? Ti lascio che hai impegni di Elvia in questo 2012 che va a finire, insomma. Io, questa qua è la mia, penso, quarta serata a settembre e poi dopo di questa ce ne sarà un'altra il 23 a Palermo, dove vi invito, se volete venire, al Teatro Savio e a Palermo. E poi, non so, sarà per Natale perché poi mi devo fermare per gli studi. Che studi fai? Io frequento il secondo superiore del liceo linguistico. Sempre a Crotone? Sì, a Crotone. Com'è il rapporto di una VIP, una piccola VIP come te con i compagni? Ti vogliono bene o c'è qualche gelosia? A dire il vero, cioè, la maggior parte sono gelosi, però, cioè, penso sia normale, a volte, diciamo, tra virgolette mi scherzano, però, cioè, ma alla fin fine non mi conoscono perché sono due anni che, cioè, sono due anni che stiamo insieme in classe, non mi conoscono, però dicono che sono montata, però se mi conoscessero saprebbero che persona sono. Sei bravissima pure con i verbi, complimenti. Sì, io infatti sono, oddio, con l'italiano io sono perfettina. Lo vivi bene. Tanti auguri e in bocca al lupo per tutto il tuo futuro. Salve. Grazie. Niente. Nientilissima.